Sono tornato dai amici di Wiki Casa Wiki Re e mi hanno fatto una sorpresa. Mi hanno infatti presentato un imprenditore italiano che vive negli Stati Uniti dagli anni 90. Siamo qui infatti con Massimo Nicastro. Buongiorno a tutti. Tanto piacere. Mi piacere mi piacere. Avevo fatto due chiacchiere insieme ad una tazza di caffè sul suo background professionale come è andata quando è arrivato negli Stati Uniti negli anni 90, però ci ha promesso 20 secondi di pillola di esperienza da condividere con voi che ci stai seguendo. Buongiorno a tutti ancora. Io vado negli Stati Uniti un po' per caso e decido per ragioni fiscali e anche climatiche di trasferirmi a Miami. In quel momento il mercato immobiliare nella Florida e principalmente a Miami inizia un bel boom e inizio come tutti a prendere la licenza di agente immobiliare e da lì poi ho fatto tutta la crescita diventando proprietario di un'agenzia, broker, imprenditore nelle costruzioni, fino ad adesso avere un gruppo diversificato che va dalla costruzione al finanziamento e all'intermediazione di tutto quello che è la parte immobiliare. Diciamo che quindi hai fatto un po' tutto l'iter da agente immobiliare, quindi al costruttore adesso sei un imprenditore strutturato. Sì, diciamo che adesso il mio gruppo tocca tutte le fasi dell'investimento immobiliare inteso nel senso classico praticamente dalla A alla Z, cioè dall'acquisizione fino alle dismissioni, finanziamenti ai vari settori sia residenziale che commerciale e così via. Vuoi farti una domanda specifica sul momento particolare della crisi finanziaria e immobiliare che hai investito voi prima di arrivare in Europa. Qual è stato secondo te un elemento che forse più di altri ha contribuito ad una ripresa, devo dire, anche abbastanza veloce rispetto a quello che stiamo vivendo qui? Sicuramente negli Stati Uniti e poi nella città di Miami dove io lavoro principalmente le cose funzionano molto più velocemente, ma devo dire che forse l'elemento fondamentale è la collaborazione che esiste fra tutti gli agenti e gli operatori del settore immobiliare e la trasparenza delle informazioni che è assoluta. Questo dà la possibilità a chiunque che si trovi nel mondo di investire o di operare sul mercato senza le remore che esistono magari in Europa. Quindi dici in sostanza un mercato che è perimetrato, che è ricco di dati accessibili, aggiungiamo, è un mercato che comunque diventa attrattivo per gli investitori e tutto questo comunque la conoscenza favorisce anche la voglia di investimento. L'investimento è in più un'organizzazione in cui gli agenti collaborano tutti uno con gli altri in modo da avere un numero di transazioni sicuramente molto superiori a quelli che sono in altri sistemi. Per cui nella pratica se chiunque fosse in qualsiasi parte del mondo volesse investire negli Stati Uniti può sapere e volesse una tipologia di immobile, sa benissimo quanto è stato pagato, se c'è un mutuo, quanto è stato pagato quello vicino, quello sotto, quello sopra, per cui è abbastanza facile avere una valutazione di massima. Dopodiché si ricorre a un agente immobiliare che, grazie al sistema dell'MLX, non costa a chi compra ed è un professionista alla pari del commercialista di fiducia o del medico di fiducia. Una percezione diversa rispetto alla nostra, dell'agente immobiliare. Poi immagino che ci saranno quelli più bravi e quelli più meno bravi anche lì. Beh, come in tutti i settori, ci sono chi è che lo fa così a tempo perso e chi invece è un professionista che lavora e i risultati si vedono. Ci sono agenti immobiliari che guadagnano decine di milioni all'anno e ci sono agenti immobiliari che in realtà fanno le casalinghe e affittano alle amiche l'appartamento, ecco tutto qua. Ok, ok. Qual è un consiglio, diciamo, universale che daresti all'agente immobiliare italiano che sta vivendo un momento di piccola ripresa che però indubbiamente opera in un mercato molto polverizzato e poco collaborativo. Dalla tua esperienza qual è una pillola che vorresti regalare ecco, agli attenti immobiliare che ci seguono. Beh, sicuramente avere un maggiore spirito di collaborazione fra colleghi aiuta tantissimo e poi tenersi sempre aggiornati con le nuove tecnologie e le nuove motivazioni nel lavoro che esistono perché qualsiasi sia il tuo campo esistono delle nuove realtà che arrivano e sulle quali devi essere aggiornato. Quello che funzionava 20 anni fa non funziona più così bene adesso e so che per chi è che ha sempre lavorato in una certa maniera è difficile riconoscerlo però inevitabilmente bisogna aggiornarsi e secondo me collaborare molto di più fra agenti. Quindi visione, formazione costante e questa benedetta collaborazione. E collaborazione che in America è sancita dall'MLS che non esiste qua in Italia a mia sorpresa perché con un settore che è super polverizzato come quello delle agenzie immobiliari italiane è proprio penso l'humus fondamentale per avere un MLS forte perché equipara tutte le agenzie e da possibilità a tutti di lavorare molto più velocemente facendo molte più transazioni. Si arriverà anche a questo secondo me, è ormai inevitabile. Lo speriamo di dire, assolutamente. Io so che se in Italia in questo periodo non per caso perché mi hanno riferito che hai deciso di investire in un progetto innovativo per il settore che è proprio quello legato agli amici di WikiRe e WikiCasa. Corrisponde vero? Sì, sicuramente. Attraverso un mio cliente che poi è diventato anche socio in alcune operazioni immobiliari sono venuto a contatto con Pietro, una persona che stimola capacità e che mi ha illustrato l'idea di lanciare l'MLS in Italia. Io penso che sia quello che in America si chiama un no brainer, cioè il futuro che sta arrivando e giustamente ho investito parte dei miei fondi personali per riuscire a portare a termine con successo questa impresa che penso sarà il nuovo modo di lavorare in Italia. È già esistente negli altri paesi e in Italia si arriva un po' dopo come sempre molte volte nel rispetto agli Stati Uniti ma alla fine arriva tutto. Quindi, oltre alla, diciamo così, capacità di Pietro Pelizzari che è indiscussa e alla sua simpatia anche se qualcuno lo accusa di sti sorridere poco, ecco, vi facciamo questo piccolo appunto. Qual è l'elemento che ti ha spinto a credere in questo progetto quindi dell'MLS ma anche del portale WikiCasa che ricordiamo essere un portale dedicato esclusivamente agli agenti immobiliari? La potenzialità del progetto per cui, pur adattandolo alla realtà italiana, questa combinazione di WikiRE che è l'MLS con WikiCasa dà la possibilità agli agenti immobiliari di avere degli strumenti moderni che permetteranno una qualificazione sia professionale e un aumento esponenziale del volume d'affari e questo avrà ripercussioni sul valore della società. Benissimo, benissimo. Grazie mille allora per il tuo contributo. Arrivando dagli Stati Uniti ti metteremo a frutto per darci visioni sempre più ampie. Con molto piacere Gerardo, grazie per avermi qua, un piacere mio. Un saluto a tutti allora. Saluto. A presto. 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 A presto.